Spacciavano tra Poggio e Carmignano, prediligendo Comeana e concedendosi anche qualche sconfinamento extra provincia nella zona di Signa. A finire nella rete dei carabinieri della stazione di Poggio a Cayamo sono stati due marocchini di 40 anni, pregiudicati per reati di spaccio. Entrambi vivono a Carmignano, anche se uno risulta residente in Spagna. Da tempo sulle loro tracce, perché considerati pusher della zona, i carabinieri sono riusciti a incastrarli ieri pomeriggio dopo una complessa attività di pedinamento. Il blitz è scattato a Comeana lungo via Lombarda. I due viaggiavano a bordo di una Renault Clio Bianca. Nel cruscotto, sopra l'autoradio, erano state nascoste 17 dosi di cocaina del peso complessivo di 15 grammi, pronte per essere vendute al dettaglio. In casa sono stati trovati e sequestrati 3.000 euro, ritenuto il provento dell'attività di spaccio. Stamani sono stati processati per direttissima. Gli arresti sono stati convalidati, ma i due sono stati scarcerati in attesa del processo, che è stato rinviato su richiesta della difesa. È stato disposto l'obbligo di dimora nel comune di Carmignano, con divieto di uscire dalle ore 18 alle ore 7.